buongiorno a tutti mercoledì 21 ottobre eccoci per la rassegna stampa è inutile dirlo è ancora il virus che la fa da padrone anche se i giornali anche oggi diciamo si concentrano su cose diverse ma ovviamente il tema centrale che tocca tutti i principali giornali è sostanzialmente la decisione che l'avvenire chiama prove di lockdown da milano a napoli mi sembra il titolo più più adatto diciamo alla situazione poi se volete c'è il correre della sera si allarga il coprifuoco antivirus c'è la repubblica il virus l'italia sta chiudendo speranza restate a casa speranza è il ministero del ministro della salute non la speranza in quanto tale la stampa la mette sul piano più locale il piemonte di mezzo allo shopping poi ci sta il domani che parla della solina nemmeno solina conosce dati sui contagi barcollano nel buio dice il giornale scarica barile indecente il tempo libero invece sempre con noto di ottimismo vaccino pronto a dicembre le parole di conte mette in prima pagina con il vergolettato e poi il messaggero che si occupa più della manovra stop alla spending e tasse per chi licenzia ma poi nel taglio centrale c'ha il titolo virus carta bianca alle regioni a proposito delle chiusure e abbiamo visto appunto l'avvenire e il sole invece 24 ore il giornale di confindustria si concentra sugli effetti anche dal punto di vista dei risparmi economici diciamo per quanto del paese sui conti correnti l'equivalente del pil ci sono stati molti depositi e vedremo lo vedremo quando affronteremo le questioni economiche i dati cominciamo con i dati così ce li togliamo subito i dati in realtà dovrebbero dire qualcosa di leggermente migliore anche se è vero che aumentano le morti ma nel rapporto tra tamponi e contagi un po scende la positività il tasso di positività dice il Corriere della Sera con più tamponi cala il tasso di positività dal 9,4% al 7,5% in terapia intensiva altre 73 persone in tutto sono 870 e poi se volete qui c'è il bilancio il totale dei casi finora è di 434.449 e poi ci stanno gli attualmente positivi che sono 142.739 i guariti 250.005 i deceduti sono tra i 36.705 ieri l'incremento dei nuovi contagi ieri è di più 2,56% rispetto a 2,25 dell'altro ieri ma come sappiamo sono stati fatti molti meno tamponi e ci dice che i nuovi contagi sono a quota 10.874 che sono il dato più alto dei morti dal 4 giugno insomma questi sono i dati però ci sta tutto il tema delle misure e allora rimanendo sul Corriere della Sera ma su tutti i giornali vediamo a pagina 2 coprifuoco anche in Campania Salvini frena la Lombardia qui molti giornali mettono in evidenza come la decisione di Fontana spiazza anche il segretario della Lega e poi se volete a proposito delle misure ci sono le diverse ordinanze che vengono esaminate da Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera autocertificazione negozi e spostamenti ecco le regole delle chiusure locali De Luca vieta pure gli spostamenti tra le province per tutto il giorno in Piemonte deciso lo stop ai centri commerciali nei weekend e qui si riprendono tutte le diverse diciamo ordinanze che riguardano la Lombardia la campagna il Piemonte la Liguria e poi più in specifico il tema dell'autocertificazione la movida i controlli insomma ci saranno rientreremo sicuramente una fase in cui diciamo muoversi spostarsi vivere diciamo sarà un pochino più difficile ma ci sta anche questo se è necessario se poi andate nelle pagine successive Stefano Landi a pagina 4 si concentra in particolare sul tema degli ospedali lo vedremo ma in particolare a Milano a Milano ospedali già in affanno ora gli aiuti arrivano dalla regione dalla regione poi c'è l'ordinario di malattie infettive del policlinico Andrea Gori che dice servono auto lockdown la città non può diventare come la Bergamo di marzo se volete non può mancare un'intervista a uno degli esperti membri del CTS eccetera 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 e parliamo per esempio di Silvio Brusaferro che dice limitiamo la vita sociale tuteliamo i più fragili ancora nulla di inevitabile anche nelle aree più critiche e poi c'è il tema dell'RSA dove torna la parvura ci dice Andrea Pasqualetto nel taglio basso del Corriere della Sera a Cortina 11 morti il virus è inarrestabile fuoco da in tutta Italia l'istituto superiore di sanità dice una nuova stretta questo è quello che ci dice il Corriere della Sera se ci spostiamo sulla Repubblica il discorso non cambia perché nelle pagine successive a pagina 2 si fa riferimento a quello che sta succedendo nelle regioni Campania stop alle 23 via nuove strette in Liguria e Piemonte via nuove strette a Liguria e Piemonte speranza che in diciamo raccomanda gli italiani state a casa il ministro della salute limitatevi solo alle attività essenziali appello di Mattarella contro la pandemia ma poi vedremo responsabilità di tutti vedremo su Mattarella ci sono articoli dei querinalisti dei diversi giornali che mettono in evidenza la preoccupazione anche di Mattarella e il suo consueto tentare di agire con passo felpato ma rivolto soprattutto al governo e poi Tommaso Ciriaco ci parla che abbiamo diciamo fino ad oggi ancora oggi stiamo parlando delle misure contenute nel ultimo DPCM che è avvenuto a distanza di una settimana dal precedente però Ciriaco ci dice nel retroscena di Pagina della Repubblica che si va verso un nuovo DPCM ma sul nol coprifuoco Conte ha pochi alleati e insomma questo è un po' il quadro se non vi basta potete andare a leggervi su qual è la situazione che ci troviamo di fronte in particolare a Milano Natalia Aspesi a pagina 4 della Repubblica noi prigionieri a Milano e la vita dimezzata nella città senza notte tra l'altro dice non si può proibire e basta si deve convincere Fedez e Ferragni spiegano meglio di tanti professionisti e qui ritorniamo su questa storia vabbè ognuno ha la sua io ho detto mia la mia ieri il che cioè non significa che Fedez e Ferragni come avviene in tante altre occasioni come c'è stato in tante altre occasioni non possano essere testimonial di campagne per l'uso della mascherina va tutto benissimo con degli spot istituzionali va tutto benissimo il fatto che il presidente del consiglio chiami direttamente Fedez e Ferragni per chiedergli di dargli una mano per me continua a rimanere la resa dello Stato nei confronti anche delle proprie responsabilità ma questo è anche la stampa che è il diciamo l'altro giornale nazionale e anche qui la stampa usa le pagine in particolare la tre la quattro e la cinque la pagina tre con il retrocena di Lario Lombardo Conte lavora al nuovo dpcm vedete che ci torna a scuola anche il pomeriggio Palazzo Ghigi pensa al nuovo decreto ma sulla didattica alle superiori c'è da convincere la azzolina e poi dice che si tratta ancora su palestre e piscine spadafora è il contrario alla chiusura e meno male che c'è qualcuno e poi ci sta anche qui l'esperto di turno che è Vittorio De Micheli direttore sanitario dell'ATS di Milano che dice Milano va verso 4.000 casi al giorno bisogna dimezzare gli spostamenti poi se ci spostiamo a delle pagine ulteriori che sono la quattro e la cinque la stampa ci parla di Torino e Genova che bloccano le strade della movita in campania elementari riaperte ma coprifuoco alle 23 il Piemonte la didattica a distanza nelle scuole superiori e insomma la rabbia dell'outlet di lusso così alla fine chiudono tutto insomma amici miei è un po quello che diciamo abbiamo già vissuto che stiamo rivivendo adesso diciamo c'è un rapporto nuovo e diverso tra il governo e le regioni vedremo anche che cosa porterà per quanto riguarda il tema delle criticità legato alle misure da prendere vi segnalo come vi avevo detto in prima pagina sul domani Mario Giro che è un politologo che dice chiudiamo le RSA per salvare gli anziani case di riposo ed RSA vanno chiuse non si tratta di una posizione ideologica ma di un'onesta constatazione i numeri degli anziani che sono morti in istituto e che continuano a morirvi sono troppo alti per non trarne le dovute conseguenze questo è quello che dice sul domani Giro ma vediamo anche qualche giornale diciamo dell'opposizione perché potete immaginare se questi sono i titoli dei giornali che non sono preconcettamente in modo preconcetto stili potete immaginare gli altri allora abbiamo il giornale a pagina 2 Alberto Giannoni l'imbarazzo tra i legristi Selvini resta spiazzato dal rigorismo di Fontana dietro la mossa del Pirellone le pressioni di molti sindaci dem il leader voglio capire e qui si mette in evidenza un dato politico che indubbiamente emerge ed è tutto evidente che la posizione di Fontana di fronte ai problemi reali poi mette in crisi una linea salviniana che non diciamo che è stata negazionista che però diciamo ha sempre cercato di sparare a palle incatenate sul governo qualunque cosa facesse e in particolare quando il governo ha preso decisioni drastiche qui è anticipato dal presidente della regione d'accordo con tutti i sindaci capoluogo insomma il problema c'è ma poi se volete sapere come funziona il coprifuoco potete andare a pagina 3 del giornale dice controlli a tappeto ecco chi può uscire torna l'autocertificazione deroghe per urgenze il lavoro nei locali fino alle 23 fa fede lo scontrino movida indicazioni del viminale ai prefetti questo trovate sul giornale che poi ancora nelle pagine 4 e 5 è il turno dell'ospedale in fiera pronti all'uso i primi 53 posti vedete come ci si sta attrezzando i medici per accogliere i pazienti sono per lo più quelli del policlinico che gestisce il centro voluto da fontana che sappiamo ha diciamo realizzato e ha seguito la realizzazione guido bertolaso guido bertolaso che torna al centro della scena perché lo vedremo per quanto riguarda roma il centro destra sembra orientarsi tra gli altri sulla figura di guido bertolaso e poi anche qui abbiamo pregliasco abbiamo visto brusa ferro prima qui abbiamo pregliasco che dice situazione esplosiva per pregliasco il cts a milano lo stopperon basta gli esperti dicono la città è un malato più grave ma le imprese già ora siamo in ginocchio rispondono le imprese e poi se volete si continua sulla campania insomma anche sui giornali diciamo del centro destra c'è anche la difficoltà di come dire prendere le misure alle decisioni di un governatore quello della 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 lombardia che ha un po spiazzato tutti il tempo la butta sul sullo scaricabarile ed è piero pietro di leo che a pagina 3 dopo la prima pagina che vi ho letto il conte dello scaricabarile il premier ripete che non vuole lockdown ma lascia il compito a governatori e sindaci le regioni stanno decidendo misure sempre più restrittive il viminale autorizza l'impiego dei militari per il controllo ora qui va dato diciamo atto a il conte però che diciamo le richieste cioè il conte sta venendo incontro alle richieste che arrivano direttamente dal territorio dai governatori quindi diciamo dire che fa lo scaricabarile mi sembra obiettivamente eccessivo c'è anche libero che a pagina 3 la mette così con pietro senaldi 60 milioni di scienziati se vuoi chiudere ti insultano se non chiudi ti insultano ancora qualsiasi scelta attuino governo e regioni vengono attaccati si conferma l'italica usanza essere proibizionisti o liberati a seconda dell'interesse e poi ecco i polmoni altrui vedete che anche libero sta assumendo una posizione l'avevamo già visto come editoriale di feltri qualche giorno fa una posizione che non va all'attacco del governo come ha praticamente sempre fatto e come ha fatto soprattutto nella prima fase del lockdown ce lo ricordiamo nella segna stampa che facevamo in quei giorni ma c'è anche il messaggero che mette in evidenza quelle che sono le strategie dell'esecutivo a pagina 4 no a spostamenti inutili tra dieci giorni nuovo step possibile chiusura alle 22 l'appello di speranza giro di vite se i casi aumenteranno ma con misure graduali il rapporto positivi tamponi si attesta al 7,5 per cento meglio rispetto al 4,9 di lunedì questo è un dato che abbiamo già visto e l'avvenire ve l'ho detto a pagina uno usa il titolo secondo me più azzeccato che è prove di lockdown da milano a napoli coprifuoco dalle 23 anche in campania il piemonte chiude i centri commerciali insomma queste sono le misure ma vediamo allora innanzitutto vedete abbiamo dato i dati abbiamo visto le misure sarebbe è interessante l'articolo di repubblica pagina 7 che ci dice con michele bocci qual è l'identikit dei pazienti che nella seconda ondata nell'attacca i polmoni sono colpiti come a marzo ma le persone sono più sane la mortalità più bassa e quindi l'identikit dice più giovani e meno gravi i nuovi malati in rianimazione e questo è anche un altro dato che è sicuramente con il quale bisogna fare i conti sempre dalla repubblica voglio segnalarvi diciamo il grido di dolore degli operatori c'è un'intera pagina la pagina 8 che fa riferimento a testimonianze dell'anestesista il contact tracer e il medico di famiglia insomma tutti dicono che la situazione sta tornando peggiore dal punto di vista dell'impatto sugli ospedali anche se la stessa repubblica avete visto ci dice che il virus è meno letale almeno fino a questo momento è chiaro che in tutto questo c'è un problema che riguarda il tracciamento e allora per quanto riguarda il tracciamento io vi segnalo innanzitutto un'intervista di federico fuggini sul correale della sera al commissario arcuri che dice raddoppieremo i tamponi in due mesi testa i medici di base curiamo le persone a casa spesi già 2,89 miliardi a breve le regioni arriveranno a 200.000 prelievi al giorno ora quando arcuri dice raddoppieremo i tamponi in due mesi benissimo ricordiamoci però sempre i banchi che arrivano per l'inizio delle scuole le mascherine tutto quello che sappiamo quindi diciamo queste frasi apodittiche di arcuri soprattutto in una situazione del genere forse andrebbe usata un pochino più di prudenza e poi quando dice curiamo le persone a casa e poi scopriamo che sono già stati spesi 2,89 miliardi ecco in questo caso la parola mess dice qualcosa cioè il fatto che diciamo sono passati cinque mesi nei quali tutte le cose che vengono dette adesso probabilmente o potevano venire fatte e soprattutto si poteva avere una disponibilità di quattrini se si fossero prese decisioni prima ben superiori a queste forse oggi non ci troveremo in questa situazione ma il capitolo messo lo affronteremo tra poco voglio segnalarvi dal domani in prima pagina invece il tema che a proposito di tracciamento quello che abbiamo visto nell'articolo di Davide Maria De Luca e Filippo Teoldi nemmeno Azzolina conosce i dati sui contagiati a scuola il ministero ha assicurato che studenti e insegnanti sono al sicuro ma le informazioni sui focolai sono basate su questionari inutilizzabili e quindi vedete che anche il controllo diciamo la il monitoraggio di quello che accade oltre che il tracciamento è un problema non da poco anche per quanto riguarda la scuola e diciamo il domani insinua che l'Azzolina si può permettere di dare determinati dati perché molto semplicemente non si conoscono i dati reali e quindi c'è una sottostima si dedurrebbe da quello che dice il domani ma se volete poi a proposito di tracciamento una testimonianza su come funziona l'app Immuni potete andare sul riformista pagina 4 c'è Claudia Fusani che intervista Stefania Prestigiacomo che sapete una deputata di Forza Italia io l'ho usata e vi dico Immuni fa solo danni dice l'ho scaricata un mese fa il 6 ottobre sono andato a fare il tampone da sola dopo quattro giorni ho ricevuto la segnalazione di un contatto con un positivo era falso panico ansia e tempo buttato insomma che pure l'app faccia un po acqua l'abbiamo visto visto che abbiamo parlato dell'Azzolina e della scuola voglio segnalarvi perché è sempre il messaggero che ha comunque una pagina che dedica a questo argomento e lo fa pagina 5 oggi prof in quarantena è il caos il ministro dice possono lavorare frenata della dattica per i tanti docenti bloccati a casa e considerati in malattia ed è in arrivo una circolare per le nuove regole ma intanto già perse migliaia di ore e sì perché c'è anche questo tema ovviamente non soltanto quello dei ragazzi quando si parla delle scuole infatti dice il 70 per cento della percentuale di scuole che quest'anno hanno avuto almeno una classe in quarantena e sono 59 i docenti in quarantena all'istituto giardano di venafro isernia didattica a distanza fino a sabato prossimo e insomma la scuola rimane sicuramente un osservato un osservato speciale a proposito di scuola voglio prendere dal foglio il corsivo di crippa di mastro ciliegia come si chiama come si si firma sul sul foglio il gamma il gran maestro di vita della didattica dai balconi e scrive e maurizio crippa l'italia è poi un paese si fatto ci possono essere ministri che inventano la distanza percepita ci possono essere luminari della medicina che dicono che il virus è morto ma ora morde il morso del virus morente ma ci sono anche maestri elementari che a napoli per dribblare meglio di oshman il lockdown di deluca si inventano la dab la didastica dai balconi il colpo di geni è venuto al maestro che si chiama tonino stornaiolo che è andato nei vicoli dei quartieri spagnoli ha fatto affacciare i suoi alunni arieggiati sui balconi meglio che su un bus e gli ha raccontato e letto gianni rodari roba che anche le mamme e i papà e i nonni si sono affacciati ad ascoltare poi ha scritto il maestro dei vicoli e dei balconi su facebook vengo ora stanco ma super carico della giornata di dab la bellezza di vedere i bambini felici di narrare con e per loro nelle strade nei vicoli dei balconi e anche l'emozione la gratitudine dei genitori era incontrollabile ma sono io che ringrazio loro in sicurezza mascherati distanziati e forse fuori dai bassi avevano messo anche il disinfettante ma senza dimenticare mai ciò che è l'essenza di ogni scuola di ogni esserci che essere maestro professore è essere in un luogo in cui è bello e necessario stare con bambini e ragazzi a insegnare il gran teatro della vita tutto il resto è procedura persino buona procedura ma la scuola è semplicemente vita aria dai balconi molto bella questa cosa di crippa sul foglio a proposito di questo maestro e diciamo ne hanno parlato anche ieri le televisioni che ha preso questa iniziativa anche geniale sotto un certo punto di vista c'è il tema del vaccino sì allora vediamo qui su tutti i giornali ma lo prendiamo sostanzialmente soltanto come titoli dal Corriere della Sera innanzitutto c'è il corrispondente da Londra Luigi Polito che intervista il medico italiano volontario per il vaccino il quale dice il rischio è minimo metastasio collabora con l'università di Cambridge prima iniezione a giugno poi il richiamo sto bene con tanto di foto di questo medico che si è messo a disposizione per il vaccino ma allora qual è poi però il futuro del vaccino se volete il giornale a pagina 8 ci dice che con riporta le parole di conte con un virgolettato il vaccino arriva a dicembre scettici gli esperti non sarà prima del 2022 la cina lo ha già dato a 60 mila persone però invece questo è il giornale quindi un giornale sicuramente non di filo governativo e invece però libero portando le parole di conte dice titola in prima pagina come vi ho detto conte prova a tranquillizzarci vaccino pronto a dicembre e dice secondo il premier in poche settimane saranno disponibili le prime dosi del farmaco anti covid un messaggio ai suoi ministri dopo mesi di parole contraddittorie basta con la politica del terrore e va bene questo è libero va beh insomma vedremo se questo vaccino poi ci sta se volete sia sul sul messaggero tra l'altro segnalo sul foglio a pagina quinta dell'inserto c'è un'intera pagina che il foglio dedica al tema del vaccino ma è analisa chirico che parla dell'utilizzo del vaccino contro chi innovazze via dicendo vaccini contro la tecnofobia solo la stupidità naturale può temere l'intelligenza artificiale virus e futuro ed è un analisa chirico che parla con cingolani e ovviamente affrontano questo tema bene possiamo chiudere anche il capitolo vaccini voglio segnalarvi dal punto di vista dell'economia sul sole 24 ore eccolo qui in prima pagina sui conti correnti l'equivalente del pilla insomma il vaccino produce anche questo dice laura serafini secondo un'analisi dell'abbia settembre depositi record 1682 miliardi più 8 per cento a bloccare liquidità in banca sono i timori del covid e lo stop dei pagamenti e insomma ci dice che è sostanzialmente il il sui conti correnti ci sta un numero di miliardi che è come il pil atteso nel 2020 questo diciamo è un dato che deve anche far riflettere voglio segnalarvi da libero il un problema che riguarda l'inps sempre legato al al tema della pandemia ovviamente cioè che ancora ci stanno soldi da pagare l'inps non sa più chi bisogna ancora pagare il presidente dell'ente nasconde i dati sui sissidi non versati avverte pratiche nevase a causa degli errori dei cittadini tridico ci prende per i fondelli sulla cassa integrazione questo è un altro problema perché sappiamo che ancora ci sono persone che non che non hanno ricevuto i soldi che avrebbero dovuto ricevere e ci dice libero che tridico scarica sui cittadini che avrebbero sbagliato i moduli che naturalmente poi i moduli che si devono fare sono sempre cose semplicissime da comprendere come è noto a tutti gli italiani ma chiudiamo il tema virus con l'europa perché a pagina 7 della stampa c'è un'intervista a valdis dombronski il vicepresidente della commissione che dice se la recessione peggiora l'unione europea è pronta a nuovi aiuti c'è una seconda ondata e questo certamente si rifletterà sulle nostre previsioni e ancora dice che la linea di credito del mess è fatta su misura per questa crisi non ci sono condizionalità e dice vogliamo far partire i soldi entro la fine della primavera ma tutto dipende dal negoziato e qui ci si riferisce ovviamente al recovery fund e va bene questo è quello che accade in Europa ma a questo punto vedete che anche dombronski parla del mess e allora se vogliamo parlare del mess andiamo innanzitutto sulla stampa pagina 6 che ci dice un fronte bipartisan per dire sì al mess ma conte tiene duro non è una priorità la mossa di rezzi complica i piani del premier l'obiettivo è portare il tema al vertice di maggioranza e carlo bertini che scrive dopo lo stop della prima linea del governo premier il ministro dell'economia il mess si è fermato contro il muro e per aggirarlo la mente fervida di matteo renzi ha partorito l'iniziativa di un intergruppo parlamentare con adesioni dei partiti promesse da italia viva al pd con il vice segretario andrea orlando da forza italia con renato brunetta diversi ex grillini e perfino un movimento 5 stelle il deputato trizzino oggi si vedranno per battezzarlo con lo slogan mess subito mentre fanno girare la lettera per le adesioni il parlamento attivi ogni iniziativa per scongiurare il rischio della perdita di fondi irripetibili nelle condizioni di accesso e restituzione e nell'ammontare delle risorse per la sanità e vedremo vedremo che cosa succede oggi avremo questa riunione faccio parte anch'io di questo gruppo che è animato da che il nostro deputato e collega camillo d'alessandro e che si riunirà per l'appunto oggi alle 16 il tema del mess è affrontato anche sul giornale a pagina 10 il salva stati e debito il premier non arretra e fa infuriare pd e italia viva non è necessario troveremo altri modi per finanziare la sanità e c'è l'allarme in maggioranza il pasquale napolitano che ne parla sul sul giornale e a questo punto però vista qual è la situazione sul mess ci sono anche dei commenti il primo commento che voglio leggervi è quello di antonio polito che riguarda ovviamente il mess ma anche l'atteggiamento di conte e la situazione della maggioranza il titolo a pagina in prima pagina ma poi prosegue a pagina 26 paese reale disorientato il peggio non era non era passato scrive polito ma se il contagio è la variabile indipendente speriamo non impazzita di questa tragedia l'azione degli uomini potrebbe anzi dovrebbe mitigare gli effetti bisogna dire che non ci stiamo riduce riuscendo anzi con il passare dei giorni si alza un frastuono di cifre polemiche che disorienta il paese reale forse lo allarma anche di più perché introduce dubbi sulla capacità del pilota di garantirci un atterraggio morbido lungi da me vorrei stabilire chi ha ragione nella carel dei posti in terapia intensiva c'è chi dice conte che li abbiamo raddoppiati e chi dice arcuri che sono passati da 5.179 a 6.628 perché le regioni non hanno usato i 1.600 ventilatori polmonari a loro forniti ma lasciamo un attimo da parte l'anello finale della catena che forse oggi è anche quello che regge di più ci sono altre falle ben più preoccupanti nella linea magino che dovrebbe proteggerci dalla seconda ondata la più grave delle quali è al capo opposto dell'emergenza lì dove essa comincia la medicina del territorio il sistema di tracciamento per interrompere le linee di contagio è praticamente saltato un po per i numeri eccezionali di positivi di cui bisogna cercare e testare i contanti stretti ma anche perché i tracciatori nelle asle sono troppo pochi la rete doveva essere potenziata del 30 per cento ma così non è stato gli infimei assunti vengono anzi ora dirottati inevitabilmente verso gli ospedali e la prima linea si guarnisce per capire la sproporzione tra risorse e bisogni basti questo basti questo dato abbiamo assunto 33 mila tra medici e infermieri un grande sforzo al costo di un miliardo e 800 milioni l'anno ma la dotazione aggiuntiva prevista nel bilancio del prossimo anno per la sanità pubblica è di 4 miliardi cioè poco più del doppio e con ciò che resta dobbiamo comprare anche i vaccini gli anticorpi monocolonali i test rapidi ce la faremo scrive ancora polito non sentiamo discutere di questo il governo e l'opposizione tra di loro e al loro interno non discutono di quanto ci serve per rifare una sanità depauperata insieme alla scuola da decenni di declino economico e di acqua alla gola nel bilancio pubblico si discute invece accanitamente del mess se sia o non sia il miglior strumento per ricavare le risorse necessarie se venisse indicato un altro alternativo il dibattito accademico su tassi condizionalità sarebbe anche interessante il presidente del consiglio ci ha ricordato in conferenza stampa che sempre di prestiti si trappetterebbe dunque da restituire prima o poi a ragione sarebbe anzi bene che lo ricordasse agli italiani anche quando aumenta di 100 miliardi in un anno la spesa pubblica per sostenere l'economia in ginocchio o quando prende 27,5 miliardi del fondo europeo sure per la occupazione e perfino quando prenderà quella parte dei fondi recovery 110 miliardi che non sono a fondo perduto sono tutti prestiti più o meno cari ma tutti più o meno da restituire del resto esiste un altro modo di uscirne il punto è come li usiamo e quanto ci mettiamo a spenderli sarebbe bello se invece del frastuono si discutesse di questo gli italiani angosciati dal rischio di finire in un letto d'ospedale non si chiedono da dove attingere le risorse ma se ci saranno per evitare come già accade di passare la notte in ambulanza in attesa che si liberi un posto nel frastuono un ruolo lo gioca pure l'opposizione divisa tra la voglia di difendere le attività produttive dai nuovi lockdown e la volontà di criticare però il governo se questi sceglie una linea soft pronta a festeggiare l'addio di conte al mess mentre protesta per la mancanza di risorse negli ospedali e la lentezza dei tamponi determinata al coprifuoco dove governa con la lombardia ma nemica delle misure più rigorose nelle piazze dove può fare agitazione per chiedere agli italiani come si fa ormai ogni giorno senso di responsabilità bisogna anche mostrarne oggi il paese legale che deve qualcosa al paese reale così è polito sul correre della sera ma ci sono altre cose che riguardano il mess per esempio c'è con un approccio più politico che fa più riferimento alla situazione diciamo politica della maggioranza ma anche dell'opposizione c'è stefano folli nel suo punto sul repubblica il titolo è l'unità nazionale da ritrovare il coprifuoco è parola che non piace a salvini stive folli ma quello deciso dalla regione lombardia simbolo del potere della lega nell'italia del nord cambia gli scenari primo perché è una decisione presa dal presidente fontana d'intesa con il governo pd 5 stelle secondo perché anticipa una serie di scelte analoghe destinata a molti picazzi nell'italia angosciata dalla seconda ondata come dimostra il caso della campania vuol dire che viene meno quella velleità di strategia alternativa contro il covid che nel corso dei mesi l'opposizione ha tentato di accreditare in risposta al governo conte salto ovviamente un pezzo di quest'articolo che così si conclude in ogni caso come si diceva dopo il coprifuoco in lombardia la lega maggior partito di opposizione non ha una linea distinta dal governo conte su come fronteggiare l'epidemia a maggior ragione dopo che il premier ha escluso il ricorso al messe per ragioni insieme politica e finanziare i consiglieri di salvini più eroscettici hanno cantato vittoria e dal loro punto di vista non hanno torto ma adesso il carroccio ha meno argomenti per contestare le scelte dell'esecutivo in altre parole siamo di fronte a una complessiva debolezza sono deboli il governo e il premier presi alla sprovvista dalla recrudescenza del virus e timorosi di perdere popolarità lo sono i partiti della maggioranza i 5 stelle alle prese con i loro problemi interni il pd rimasto da solo con renzi a chiedere il ricorso al messe senza riuscire ad ottenerlo del resto il primo a giudicarlo non necessario è proprio il ministro dell'economia infine l'opposizione si trova ad avere poche frecce al suo arco i prossimi mesi tra covid e crisi economica si annunciano drammatici è pensabile che una situazione eccezionale possa essere gestita con mezzi ordinari con un parlamento a mezzo servizio per via dei contagi scarsa coesione nazionale una maggioranza incerta e una complessiva incapacità di prendere decisioni l'unità nazionale resta un tema tabù ma ciò non di meno la sua ombra si allunga su un dibattito pubblico sterile e neurotico e le circostanze potrebbero imporre scelte che al momento nessuno vorrebbe affrontare chissà se folli ritorna su quello che è un suo cavallo di battaglia cioè un governo istituzionale di unità nazionale tecnico e via dicendo comunque questo è quello che dice e c'è da segnalare ancora sul tema del mess l'avvenire che ha un editoriale in prima pagina di marco girardo il mess serve aspettare no e tra l'altro scrive sulla prima pagina di avvenire diciamolo chiaramente in premessa non richiedere oggi anzi non averlo già fatto ieri circa 37 miliardi del mess per affrontare l'emergenza sanitaria si rivelerà prima che un abbaglio tecnico soprattutto un grave errore politico di strategia politica laddove in politica come in qualunque altra situazione la strategia si distingue dalla tattica per capacità di scegliere il momento giusto in cui agire considerando i tempi lunghi e l'intero scacchiere non solo la prova del giorno dopo si conclude così a pagina 2 questo editoriale dopo davvero richiedere il mess davvero richiedere il mess prestiti sanitari ora che i tassi sono bassissimi gli investitori mostrano un grande interesse per le emissioni comunitarie significherebbe favorire le vendite di botte btp in circolazione e quindi far schizzare rendimenti e spread questo si riferisce al famoso stigma davvero giocando d'anticipo sul mess l'italia sarebbe stigmatizzata eccolo il signale significato psicosociale di stigma a partire dagli anni 60 e da erving goffman con il suo saggio stigma l'identità negata è quello di pregiudizio cioè una valutazione rating nel linguaggio della finanza già emessa prima di un'osservazione attenta della realtà i mercati hanno dimestrato ieri di non avere alcun pregiudizio sui nuovi debiti comuni europei stile sure debiti contratti al momento giusto attenzione non quando i buoi sono scappati dalla stalla ma i mercati in genere gli osservatori estremi potrebbero addirittura apprezzare politicamente la scelta strategica dell'italia di rompere gli indugi per prima sul mess seguendo l'etimologia botanica della parola stigma che in questo caso significa parte apicale del pistillo di un fiore quella destinata a ricevere e far germinare i granelli di polline lo stigma che fa germogliare nuovo debito finanziato cioè per accelerare le difese sanitarie e quindi far crescere l'economia che sarebbe poi la funzione originaria di ogni debito vecchio nuovo che sia nonché il modo migliore per ripagarlo è utile questo editoriale di girardo perché spiega anche questa storia dello stigma che di cui molti parlano ma che di cui non si sa molto è il giornale anche in prima pagina con sallusti che si occupa di messe scrive titolo che piaccia o no la via la lombardia ma vedrete che poi a questo arriviamo che non è una partita facile lo sappiamo da mesi che in mezzo al mondo nelle stesse nostre condizioni è un fatto innegabile ma detto questo la politica dei vorrei ma non posso è carica di incognite si vorrebbe chiudere tutto per salvare la pelle ma non si può si vorrebbe tenere tutto aperto per salvare il portafogli ma è troppo pericoloso quindi si chiude solo un po e si tiene aperto ma non tutto e non sempre nulla purtroppo è a costo zero qualsiasi scelta innesca vuoi per la salute vuoi per l'economia effetti collaterali e di non poco conto qui le idee personali non contano contano i risultati che vanno misurati in giorni perché se ci si lascia andare a lungo una strada sbagliata ci si perderà senza ritorno la regione lombardia per prima ne ha indicata una che tanto per cambiare sta per fare scuola in tutta italia almeno così si dice in queste ore è una messa appunto del vorrei ma non posso meglio della via di mezzo non esente da imposizioni discutibili come quella di vietare la vendita di alcolici anche nei supermercatici dopo le 18 o il fatto che si limitano orari e capienze delle trattorie ma non dei trasporti pubblici cosa quest'ultima che appare come un paradosso visto che se un convoglio del metro c'è più gente ammassata che in qualsiasimo vita conclude sallusti c'è un'alternativa alla via lombarda chi lo sostiene esca lo scoperto sarebbe il benvenuto o si taccia illudere la gente non è sicuro o almeno così si pensa perché fuori dell'epicentro o se nessuno dei tuoi cari è attaccato a un respiratore che lo tiene a forza in vita la via lombarda pensata e voluta dal governatore fontana è l'ultimo tentativo di affrontare la questione con ragionevolezza se fallisce dopo c'è solo il disastro sanitario oppure la mamma di tutte le crisi economiche possibili anche entrambe le cose assieme per questo che ci piaccia o no che in alcuni aspetti si addirittura ridicola con il coprifuoco alle 23 voglio vedere circolare al minuto il tempo di rientro a casa per calcolare al minuto il tempo di rientro a casa per non incorrere in sanzioni dobbiamo sperare che dobbiamo sperare tirare che funzioni tutto il resto sono chiacchiere ideologiche guerre politiche che davvero poco ci appassionano e che certo non riveleranno non risolveranno alcun problema a roma il governo brancola nel buio chi ha come la lombardia un po di buon senso lo usi e che dio gliela ce la mandi buona così salusti chiudiamo con cerasa sul foglio in prima pagina il processo a gualtieri qui si fa riferimento alla posizione del ministro gualtieri e si fa anche prima leggo una parte di questo articolo riferimento a quanto tutti i ministri dell'economia arrivati a un certo punto hanno avuto problemi con i governi di cui facevano parte scrive cerasa quello che sta succedendo in queste ore tra il ministro dell'economia del governo conte roberto gualtieri il segretario del partito di cui gualtieri fa parte nicola zingaretti è la fotografia di un problema che va bene al di là di un semplice retroscena e che potremmo provare a riassumere utilizzando il sostantivo che forse meglio sintetizza lo stato di salute di questo esecutivo incartamento e principali capi di imputazione che la segreteria del pd ha messo insieme in questi giorni per ricapitolare le proposte le proprie perplissionalità rispetto alla traiettoria imboccata dal governo e dal mef riguardano principalmente tre questioni il futuro del mess il destino del recovery i troppi cantieri che al mef si sono si aprono e poi non si chiudono il valitalia eccetera sul futuro del mess la partita è ormai la luce del sole da tempo anche gualtieri sa bene che ogni critica rivolta da zingaretti al presidente del consiglio sul tema dell'utilizzo delle linee di credito del mess sulle spese sanitarie è una critica rivolta più agli amici del mef che ai quasi amici di palazzo chigi lo stesso discorso vale per il tema del recovery fan e il punto qui non è tanto non aver ancora presentato un piano di utilizzo di fondi europei sul modello francese ma è il sospetto che l'italia possa essere tentata da fare quello che ha già annunciato di fare la spagna e che il pd non vorrebbe ovvero sia il limitarsi a utilizzare all'interno del recovery solo la quota di finanziamenti a fondo perduto rinunciando ai prestiti e dunque ad alcuni progetti di forme strutturali a cui i prestiti sarebbero legati per le stesse ragioni spiegate domenica sera da conte in conferenza stampa virgolette siccome sono soldi da restituire sono soldi che alla fine vanno in incrementare il nostro debito pubblico quello che deriva da questo ragionamento ha scritto ieri in una nota molto appassionata il deputato di italia via luigi maratin è che dovremmo usare il mess semplicemente come fonte di finanziamento alternativa per pagare cioè spese sanitarie già previste nel nostro quadro macroeconomico e ora che ce l'avete davanti agli occhi potete facilmente capire che la nostra posizione espressa nelle ultime ore non è solo la voglia di non contraddire il principale partito di maggioranza da sempre contro il mess ma solo per ragioni ideologiche ma è anche il riflesso di una preoccupazione che proviene da dentro le stanze del ministero dell'economia sulla necessità di mantenere intatto il sentiero di riduzione del rapporto debito pil annunciato ai mercati nei giorni scorsi conclude serasa è difficile che la presenza sulla scena politica di un pd a due velocità possa produrre chissà quali scossoni politici ma la domanda che si pongono oggi matteo renzi e nicola zingaretti è una domanda che forse dovrebbe iniziarsi a porre anche l'esecutivo governare in tempi di pandemia non è semplice ovvio ma governare una pandemia senza fare tutto ciò che andrebbe fatto per uscire dall'incartamento scusate whatever it take è come guidare una macchina durante una tempesta preoccupandosi per chi deve tenere il volante più per preoccupandosi più di chi deve tenere il volante che di come evitare di andare a sbattere e così c'è rasa e con questo possiamo chiudere anche il tema del mess ma allora visto che stiamo parlando anche di manovra su questo voglio segnalare il messaggero a pagina 11 stop alla spending review zero risparmi fino al 23 scrive il messaggero previste revisioni e rimodulazioni della spesa ma senza effetti sui conti soltanto fra tre anni lo stato potrebbe realizzare una riduzione del di un miliardo ma se poi andate a pagina 17 del messaggero che sono le pagine economia c'è un altro tema che riguarderà la manovra licenziamenti ok agli individuali ma spunta la tassa per chi taglia dall'inizio del 2021 partirà l'uscita graduale dal blocco restano vietati i procedimenti collettivi per chi usa la cassa integrazione sarà consentito interrompere il contratto dietro versamento di un contributo per le politiche attive questo a proposito delle alcune cose della manovra ma vedrete che ancora di questo dovremmo discutere sempre per quanto riguarda la manovra segnalo dal sole 24 ore in prima pagina Gualtieri subito industria 4.0 proroga del super bonus con i fondi della UE e si riprende a pagina te Gianni trovati questo articolo e dice oltre ai 15 di next generation e alla manovra da 24 ci sono 31 miliardi i prodotti dei recovery fund e di questo ci parla laura sabatini linda laura sabatini sulla stampa facendo riferimento in particolare al tema della diversità del gap di genere con recovery poi cancelliamo il gender gap dice laura sabatini e che inizia in prima pagina eccola qua dice una disamina attenta chiara inconfutabile quella del bilancio di genere presentato ieri in parlamento dalla sottosegretaria cecilia guerra una conferma feroce della retratezza della situazione delle donne italiane che conferma se ce ne fosse ancora bisogno della necessità di utilizzare il recovery fund per recuperare il tempo perduto per uscire dalla preistoria e qui si fa riferimento al fatto che l'italia è il paese dove questo gap è maggiore ma che pure l'europa non scherza eccetera eccetera insomma questo è quello che ci evidenzia linda laura sabatini su questo tema sulla stampa con questo passiamo un rapido sguardo a qual è il termometro del governo uno ce lo dice il Corriere della Sera pagina 13 e Maria Teresa Melli che dice resta il gelo sul mess Conte si affronterà se porranno il tema Marcucci dice il premier non divaghi e qui ci sta tutto il la frenata di domenica poi il patto di legislatura dopo le critiche del PD il tavolo che slitta a novembre perché slittano gli stati generali del Movimento 5 Stelle insomma mi pare che chi parlava di incartamento in questo momento su la vita del governo non va molto lontano in tutto questo c'è Mattarella che si preoccupa sì e ce lo dice il Corriere della Sera con con Marzio Breda che è qui nella lista e dice ora una responsabilità collettiva all'appello del Presidente della Repubblica che invita anche le istituzioni a collaborare e lo stesso fa il quirinalista della stampa che è Ugo Magri che in prima pagina e poi prosegue nella pagina 3 e nessuno si salva da solo e dice Mattarella l'appello all'impegno di tutti e scrive tra l'altro Magri con tutto quello che sta rischiando l'Italia c'è chi continua a farsi gli affari propri infischiandone dell'interesse generale lo denuncia Sergio Mattarella con un linguaggio come al solito misurato nella forma ma allarmato nella sostanza il capo dello Stato vede nicchie della politica, spicchi delle istituzioni e ambienti dell'economia che non hanno colto fino in fondo la gravità della situazione per cui continuano a regolarsi come se ancora vivessimo tempi normali questo sulla stampa, se volete c'è anche l'avvenire che a pagina 9 si occupa delle prese di posizione del Presidente della Repubblica Mattarella, istituzioni, collaborino il capo dello Stato premia gli eroi civili, sbagliato difendere solo le proprie competenze e i propri interessi i governatori di centrodestra si adeguano, Salvini e Meloni criticano, le chiusure Lombardia e Piemonte poi c'è il capitolo politico che oggi è veramente tutto fissato sulle elezioni comunali che a questo punto metteremo in blocco perché ci stanno Roma, Napoli, Milano e oggi la fa da padrone il centrodestra sostanzialmente perché a pagina 12 Marco Cremonesi ci dice Bertolaso a Roma e Veronesi a Milano, candidature, le idee del centrodestra vertice tra Salvini, Meloni, Berlusconi, Via Zoom e Tajani il chirurgo lusingato dalla proposta il chirurgo sarebbe Bertolaso poi qui appunto ci si dice in un trafiletto che gli stati generali in remoto slittano a 14 e 15 novembre quelli del Movimento 5 Stelle ma continuiamo a occuparci delle comunali perché anche Repubblica questa evidentemente è una notizia che sta uscendo e che ha una sua attendibilità vedremo poi effettivamente che cosa succederà duello su Roma, Berlusconi punta su Bertolaso il no di Salvini dice Carmelo Lopapa che anche qui si ipotizza a Veronesi a Milano il magistrato Maresca a Napoli ma insomma vedete già che pare che Salvini non sia d'accordo avete visto che era uscito Giletti e poi è saltato se volete la stampa pagina 11 fa la stessa rivelazione diciamo Veronesi Junior a Milano Bertolaso a Roma e centrodestra che prepara le candidature incontro da Salvini, Meloni e Tajani nel toto nomi anche Sergio, Dompe, Baresi e Damato e figuratevi se non avremo e chissà quante ne avremo siamo ancora a sei mesi dalle elezioni sappiamo bene che ne vedremo delle belle pagina 12 del giornale invece altri nomi Pierfrancesco Borgia, Toschi, Dompe e Bertolaso il centrodestra fa i primi nomi vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini per vagliare la lista dei nomi per le comunali poi vedete ipotesi Baresi a Milano e quindi diciamo la carrellata dei nomi non finisce più ovviamente per quanto riguarda Roma non si può non prendere il messaggero che si è occupato ampiamente del centro-sinistra anzi di Calenda in particolare e nei rapporti col PD e oggi a pagina 13 invece dice Roma la carta a Bertolaso quale dice se c'è unità sono pronto si riparla del vertice per la capitale anche l'ex guardia di finanza Toschi e per Milano il nome di Paolo Veronesi insomma qui si dà anche notizia della presenza del Papa in Campidoglio ieri con la mascherina e anche l'Islam condanna l'orrore di Parigi il professore decapitato va bene chiudiamo anche con questo capitolo allora rapidamente abbiamo ancora un tema che non è concluso sembrava più di sì e invece no ed è quello di autostrade e segnalo dalla stampa ovviamente anche questo lo trovate su molti giornali per comodità lo prendo dalla stampa l'offerta non basta ma Atlanta lascia la porta aperta a casa depositi e plastichi l'holding dei Benetton un'altra settimana di tempo per la trattativa il centrotesta dice le autostrade svendute agli stranieri l'attacco di Icecat e a questo proposito vi prendo dal domani la pagina 5 perché domani la mette così nei piani per rilanciare autostrade si sono dimenticati la manutenzione il direttore generale della vigilanza sulle concessioni scrive ai vertici del ministero dei trasporti gli importi nel piano finanziario non sono inferiori alle necessità sono inferiori alle necessità un altro problema in una trattativa sempre più complicata non c'è grande amore tra Giorgio Meletti il domani e la ministra Di Micheli che ieri come ricorderete aveva subito un pesante articolo in prima pagina dello stesso Meletti vedremo come evolve la situazione sicuramente è evoluta non positivamente per Davigo la situazione perché gli è andata male voleva rimanere al CSM voleva non andare in pensione è andato in pensione ed è non fa più parte del CSM e allora in prima pagina Tiziana Maiolo e Paolo Comi il titolo di apertura del riformista il pool manipulite esce di scena è rissa nel partito dei PM e si fa riferimento poi negli articoli che proseguono nelle pagine 7 e 8 di quello che sta succedendo dentro la magistratura è finita manipulite dice Tiziana Maiolo perché come sapete diciamo c'è stata una rottura nella decisione e poi Paolo Comi Davighiani in tilt senza Davigo e tracollo nelle urne della NM all'elezione per il partamento togato male anche unicoste successo per articolo 101 di Matteo Sottaccusa per uscita di scena del dottor Sottile insomma questo poi ci sono gli strali di travaglio vabbè insomma abbiamo visto come funzionano le cose segnalo anche sul foglio in prima pagina Luciano Capone Cavigli e per Cavigli il pensionamento di Davigo manda in tilt la stampa manettara e illumina nuove patologie della magistratura il Tar si domanda con un punto esclamativo il foglio voglio segnalarvi è solo Repubblica che ne parla ma rimaniamo su questioni che invece hanno a che fare con la giustizia anche se è semplicemente allucinante della vicenda di Walter De Benedetto che è affetto da artrite reumatoide che si cura con la canapa e però ha ricevuto diciamo è stato un anno fa i carabinieri si sono presentati a casa trovando una coltivazione di cannabis pochi giorni dopo ha scoperto di essere stato denunciato e un mosefa di essere indagato alla procura di Arezzo per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con un amico che per lui impossibilitato a muoversi innaffiava quelle piantine e lo stato senza cuore mi accusa per la cannabis che coltivo per curarmi è una conferenza stampa che ha fatto ieri a Montecitorio e Benedetto insomma siamo alle solite purtroppo voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 16 una questione che riguarda le donne che mi ha colpito perché ormai siamo arrivati a qualcosa che forse ci dovrebbe fare riflettere pagina 16 spogliate da un'app segreta in 100.000 finiscono sul web su Telegram ragazze nude a loro insaputa foto ritoccate dall'intelligenza artificiale e Gabriele De Stefani che ne parla dice sono 104.852 donne spogliate grazie al sistema informatico 101.080 gli utenti della app più 198% il traffico di queste foto porno in tre mesi il 70% delle immagini rubato dai social ma insomma ormai siamo arrivati al punto che si prendono le foto normali e poi grazie a questa che si chiama intelligenza artificiale boh io non ho parole Gianni Riotta ha un colloquio con Costanza Sciubba che è un analista di Data.org che dice difendiamo le utenti in rete governi impreparati la vendetta personale ora diventa arma di massa insomma è un tema che andrà seguito perché diciamo non è da poco dobbiamo affrontare il tema dei pestaggi innanzitutto vorrei parlarvi del pestaggio forse qualcuno se lo ricorderà del giornalista di Repubblica durante una manifestazione di Casa Pound a Genova è stato picchiato dalla polizia c'è stata insomma tutta una vicenda giudiziaria adesso si è arrivati a processo e a pagina 16 Massimo Calandri ci parla di quello che sta accadendo il cronista pestato dalla polizia virgolette percepito come un pericolo e dice tra l'altro fu pestato fu un pestaggio selvaggio immotivato durato diversi secondi finalmente interrotto da un funzionario di Polizia riconoscendo Origone che è quel cronista picchiato fermi lasciatelo gridò ai suoi gli fece scudo col proprio corpo il procuratore capo Francesco Cozzi era stato di una chiarezza esemplare con questa logica del branco infierendo su di una persona a terra si può massacrare qualsiasi passante ma il PM dotto che ha affidato le indagini a colleghi degli indagati ha ricevuto un'informativa finale che sembra quasi ribaltare i ruoli secondo la squadra mobile genovese la colpa dell'aggressione sarebbe indirettamente del cronista percepito dai poliziotti come un pericolo proprio così un pericolo nonostante il taccuino la birra il cellulare il suo gridare disperato sono un giornalista si però virgolette segue sempre da vicino le fasi della manifestazione si viene a trovare in corrispondenza dei manifestanti più attivi negli scontri appare plausibile che anche il giornalista che si trova nel mezzo dei cittadini manifestanti possa essere stato percepito per gli operatori impegnati nella carica come un pericolo vedremo come evolve perché ci dovrà essere un processo speriamo che ci siano dei giudici che sappiano valutare bene le cose poi c'è il pestaggio del ragazzo di Lanciano e questo lo segnalo dal Corriere della Sera a pagina 19 l'abbiamo già visto ieri ma il ragazzo adesso è in coma e sembra di vivere un film che ho già visto il ragazzo in coma ha preso gli aggressori a dare il pugno è stato un tredicenne 3 su 5 sono minorenni filmati dalle telecamere subito dopo il pestaggio vabbè diciamo per dovere di cronaca perché veramente non si sa che dire poi c'è un problema che riguarda però oltre ai pestaggi poi quello che gli italiani pensano in questo è il riformista con Sergio Delia che mette in evidenza un aspetto inquietante l'attrazione è fatale per la forca mezza Italia vuole il patibolo e a pagina 3 scrive un articolo di Elia il titolo è nel paese delle rigni non stupitevi se il popolo chiede la pena di morte e giustamente dice urlano vendetta appena viene commesso un delitto occupano la scena giudiziaria e mediatica avvelerano i pozzi a cui si abbevera la pubblica opinione in galera rispondono se un boss malato viene scarcerato per loro chi è stato mafioso lo è per sempre e quasi nessuno osa contraddirle e dice il 37% di favorevoli è anche poca cosa considerato il regime giudiziario e penitenziario politico e mediatico che negli ultimi 30 anni si è mangiato lo stato di diritto lo stato democratico lo stato di coscienza così Sergio Delia sul riformista ma a questo proposito voglio invece segnalarvi anche la rubrica di Martia Feltri buongiorno sulla prima pagina della stampa perché un po' parla anche di questo dice qualche giorno fa Ipsos ha diffuso un sondaggio secondo il quale il 56,2% degli italiani non ritiene più la democrazia parlamentare un sistema adeguato al governo del paese e sarebbe il caso di provare altro non vi annoierò con la solita geremiade sugli italiani stanchi della democrazia siccome l'hanno comodamente ereditata e non faticosamente conquistata e non sanno che la democrazia è come la salute la si rimpiange quando non c'è invece è interessante dare un'occhiata ad altri sondaggi un anno fa Giuseppe Conte sempre rivelazioni Ipsos era apprezzato dal 40% degli intervistati arrivò poi il virus e la popolarità del presidente prese a salire a fine marzo era al 61% e a fine aprile al 66% a fine maggio al 60% a fine giugno al 63% a fine luglio al 65% pausa agostana e a fine settembre di nuovo al 65% si può supporre che la grande paura e poi il grande ed effimero sollievo estivo avessero incantato gli italiani al cospetto del premier per caso così dolce e vellutato e guarda un po' armato di strumenti eccezionali per cui decideva che cosa era giusto e che cosa era sbagliato che cosa era consentito e che cosa no senza doversi curare degli ingombri della democrazia e del parlamento e lo fa ancora e però come ampiamente previsto alla seconda ondata l'incanto sfuma in un righino e una settimana fa il gradimento era tracollato al 45% e ieri lo si segnalava attorno al 40% come prima dell'epidemia perché noi altri qui siamo stanchi della democrazia e in fondo ci è sempre piaciuto ubbidire a un capo per il gusto subito dopo di fargliela pagare questo è Mattia Feltri sulla sulla stampa e poi c'è da segnalare la morte di Lea Vergine del marito Enzo Mari e il Corriere della Sera anche la Repubblica che lo mettono in prima pagina uccisa dal Covid come il designer ma insomma sono moglie e marito che sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro dice il Corriere della Sera se n'è andata il giorno dopo il marito Enzo Mari anche lei ammalata di Covid Lea Vergine 82 anni critica curiosa indomita impose la lettura al femminile dell'arte come Enzo con lei nel ritratto di Giuseppe Vacchetta era ricoverata a San Raffaele di Milano se volete c'è su questo non ho il tempo di leggerlo ma vi segnalo a pagina 21 della stampa dalla controcultura alla pandemia la favola dolce di Lea e Enzo Mari Eagle Santolini sulla stampa a pagina 21 per quanto riguarda la politica estera segnalo se volete sapere cosa succede negli USA su tutti i giornali ma in particolare per quanto riguarda le elezioni e diciamo il prevalere ancora di Biden su Trump Corriere della Sera pagina 14 e 15 invece dalla Repubblica gli Stati Uniti sono interessati da un altro tema che è quello che riguarda Google ce lo dice la Repubblica soffoca i concorrenti negli USA parte il processo a Google l'azione legale dell'antitrust sotto accusa il motore di ricerca installato per default sugli smartphone e la pubblicità digitale nuoce all'economia se poi volete invece notizie sui Balcani il diciamo tentativo di trovare una normalizzazione andate sul Corriere della Sera pagina 17 con Maurizio Caprara l'inviato dell'Unione Europea agli USA su Serbia e Kosovo serve una voce comune intervista all'Ajkak l'intesa nei Balcani conviene a tutti chiudiamo con l'Argentina e la stampa che ci dice della situazione allo sbando del paese sudamericano a pagina 9 bidonville fuga di capitali e ospedali pieni l'Argentina verso il disastro per il lockdown e poi Libero ci dice che la Grecia sta costruendo un muro contro i migranti a pagina 11 agli confini con la Turchia la Grecia fa un muro per fermare i migranti 26 km di acciaio altri 5 metri al confine con la Turchia bene con questo concludiamo la segna stampa se volete ci sentiamo domani come al solito a partire dalle 7 e mezza grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti